Allora intanto abbiamo fatto tre punti mercoledì, dà coraggio ed è comunque un buon risultato e quindi prepareremo la partita per domani nel miglior modo possibile e niente, dispiace per il Tapagnaco perché il Tapagnaco è comunque una realtà che ha fatto tanti anni in grandi categorie soprattutto in Serie A e quindi dispiace però giustamente le retrocessioni sono tre e quindi purtroppo qualcuno ci doveva andare mi dispiace per loro ma noi faremo la partita di domenica con grande battaglia per cercare di portare a casa tre punti Le infortunate sono sempre le stesse quindi quelle non cambiano, dovremo recuperare Bergros che è tornata da un lutto in famiglia e è imprezzabile che ovviamente era stata squalificata per una giornata e per il resto abbiamo la squadra a disposizione In questo momento l'Arezzo Calcio Femminile è in decima posizione, qual è il tuo obiettivo? L'obiettivo del tuo staff e l'obiettivo che porrai alle tue ragazze? L'obiettivo come ho sempre detto a inizio in carico è quello di far più punti possibile Quindi ora abbiamo a disposizione 9 punti e cercheremo di fare tutti e 9 punti per cercare di portare l'Arezzo più in alto possibile